Ci sono i buoni, ci sono i cattivi, ma sono pochi. La maggioranza è l'indifferenza. Se non ci fosse l'indifferenza penso che le cose andrebbero meglio. Senza microfono. Non conto nulla, non posso. Io ritengo che ci sia un approccio diverso, lievemente preparato, o anche un pochino di delega a persone un po' più preparate di noi. Diciamo il carabiniere del quartiere, l'associazione di consumatori. Si rinuncia proprio a dire qualcuno preparato perché si pensa che comunque non si avrebbe giustizia. Pensate che dare miglior conoscenza, non so con quali vie mediatiche, potrebbe rafforzare invece la speranza e la consapevolezza del proprio valore, soprattutto quando si avviene un propusco, no? Sì, buonasera. Tanti anni fa, nel secolo scorso, quando ero all'università e sostenì l'esame di diritto penale, lessi il libro, il white collar crime di crimine dei colletti bianchi. Il famoso libro scritto negli anni 30, se non sbaglio la Staterland, nel quale Staterland appunto parlava proprio di quanto poco fosse avvertito il disvalore dei grossi, dei reati commessi dalle grandi imprese, reati economici. Cioè la gente è più portata a sentire come disvalore il reato, che ne so, il furto commesso dal fruttivendolo perché è più vicino a sé, piuttosto che il reato economico commesso dalle grandi imprese. Proprio lei, dottor Spataro, che si è occupato anche di criminalità economica, volevo capire qual è la sua opinione, se ancora oggi questo minore disvalore nei confronti del reato economico è sentito, a parte il falso in bilancio. Grazie. Da un lato è molto meno diffuso di quanto si possa pensare, dall'altro forse gli esempi più evidenti appartengono proprio allo schieramento da cui partono queste accuse. Voi vedete, leggete quello che in questi mesi viene pubblicato dalla stampa, insomma non ci pare del tutto casuale che riguardino magistrati che hanno fatto scelte politiche in una direzione che non sono certo mai stati accusati prima di essere orientati politicamente, però su questo ovviamente un discorso generico e inopportuno bisognerebbe sempre puntualizzare ciò che si sta affermando. Quello che vorrei dire è che io non ho dubbio nel dover distinguere, come ho detto già in premessa, quello che è l'impegno pubblico della conoscenza, qualcuno l'ha evocata, io sono convinto che sia fondamentale, della conoscenza sui principi fondamentali della giustizia e della Costituzione, non si può confondere questo impegno con la scelta della politica. Allora, io credo che il magistrato abbia diritto a vedersi garantito l'elettorato passivo se vuole fare questa scelta, ma credo anche che essa debba essere definitiva e reversibile. L'ho anche scritto, forse non tutti la pensano nella stessa maniera, è certo però che nel momento in cui una scelta politica viene fatta, beh, insomma, essa caratterizza. Però, attenzione, la realtà che affrontiamo è una realtà molto complessa, non può questo discorso essere fatto soltanto per i magistrati. Provate a immaginare, per esempio, l'esame, alla posizione di tanti avvocati che contestualmente sono avvocati in certi processi, ovviamente con certi imputati, che portano avanti le loro istanze dinanzi a un tribunale che dovrebbe essere l'unico giudice, ma nel momento in cui le istanze sono rigettate da parlamentari, essi si attivano per far approvare leggi che consentono di riproporre le istanze dinanzi al tribunale. Provate a pensare anche al mondo accademico, da cui provengono alcuni che magari, forse tradendo il dovere di imparzialità e di studioso che è proprio dell'accademico, pongono al servizio non irreversibile del potere politico, cioè, dico bene, al servizio non irreversibile del potere politico la loro scienza. Allora, questo discorso va fatto con grande attenzione, fermo restando però che abbiamo fortunatamente grandi esempi, luminosi esempi di magistrati che hanno messo la loro scienza a disposizione della politica e comunque i retrati nella magistratura sono irreprensibili come lo erano prima. Beati coloro che hanno fame e siete di giustizia, è vero o non è vero? Io personalmente penso che dobbiamo crederci in questo principio, io credo che non possiamo perdere fiducia o speranza perché altrimenti andiamo a chiuderci in una posizione di rassegnazione e passività e francamente non è questo che io augureria a nessuno, che non credo sia vero poi, è importante invece vincere l'indifferenza che fa pensare questo. Qui permettetemi di citarvi un episodio che mi è capitato di vivere qualche mese fa, ero a Torino, ho partecipato alla Biennale della Democrazia avendo a fianco Stefano Selle, il 93enne autore dell'Opusculo Indignevù, no? Indignatevi! Ebbè, questa persona incredibile di 93 anni, fuggito dalla Germania nazista, partigiana con de Gaulle, catturato dai tedeschi, due volte fuggito dai campi di concentramento, poi ha partecipato al diplomatico alla scrittura della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo, diceva alle persone presenti, indignarsi non basta, questo è il suo motto come si sa, ma la domanda è allora cosa possiamo fare? La sua era una risposta molto concreta, niente affatto affabulatoria oppure retorica, diceva semplicemente ognuno nel suo campo, in cui opera, in cui lavora, sa o dovrebbe sapere qual è il bene, quali sono i problemi, come si può tentare di vincerli, però la raccomandazione, certo io lo faccio da magistrato, non sono nel sociologo, nel tuttologo, è che appunto ciascuno si impegni, questo consente di vincere l'indifferenza che si diffonde, è chiaro che questo comporta anche avere fiducia nel prossimo, non è la possibilità collettiva di venire fuori da questa situazione, ma ci dobbiamo profondamente credere, devo dire per la verità che SEL si è poi rivolto anche agli insegnanti presenti, raccomandando loro di fare imparare a memoria le poesie ai loro allievi, perché esse elevano lo spirito e ci credo profondamente, anche questo teniamolo presente. Quindi questo discorso però lo leggo a quello che è stato pure qui fatto, della necessità di una maggiore conoscenza, ecco perché dobbiamo discutere in occasioni come queste, è giusto che maturiate anche critiche nei confronti di chi vi parla, però poi arricchitele con le vostre autonome valutazioni, perché molto spesso viviamo in presenza, non sempre fortunatamente, di un'informazione che ho e teleguidata o è forse disinteressata all'approfondimento dei temi, ecco perché bisogna anche approfondirli. Per quanto riguarda i reati economici, la sensibilità della gente rispetto ai reati economici, beh io qui sono a dirle questo, da un lato credo che nel sentire collettivo sia cresciuta la sensibilità rispetto alla gravità di questi reati, nel sentire collettivo, cioè la gente non fosse altro che per vedere quotidianamente questo tipo di inchieste che nasce, va avanti e si sviluppa, è certamente più sensibile di prima. Quello che è assurdo è che invece reciprocamente sul piano politico per tutti questi reati, come è stato già ricordato, si tende a farne reati bagatellari da quattro soldi, mi dico soltanto una, il Consiglio d'Europa approva nel 2009 una risoluzione fondamentale sulla base di uno studio di un gruppo di esperti in cui si condanna l'Italia per l'incapacità del nostro sistema di contrastare la corruzione, perché? Perché la prescrizione è troppo breve. E però cosa avviene è che in Italia si risponde accorciandola ancora di più, perché la prescrizione breve è quella a cui ha fatto riferimento anche Giancarlo, è stata approvata da un ramo del Parlamento, l'incensurato, ha diritto a una prescrizione più breve dei cittadini normali, per cui beneficerà della prescrizione, rimarrà incensurato e potrà goderne un'altra volta e così via, mi sembra una follia. Quindi la reazione politica è che questi reati, come dire, sono reati da quattro soldi, addirittura credo che si possa citare quando nel 2008, ha fatto bene Giancarlo a ricordare la sicurezza come strumentalizzato, ormai i pacchetti sicurezza non si contano più, nel 2008 quando viene approvato il primo pacchetto sicurezza e si parla anche di una legislazione speciale che riguarda i rifiuti, la gestione dei rifiuti. A Napoli vi è una incriminazione che riguarda importanti personaggi istituzionali che di quel settore si occupano. La risposta, il commento del Presidente del Consiglio fu che questa magistratura così formale si deve pure capire che in certi momenti può valere una certa sospensione della legge, come dire, si può essere più elastici in qualche momento. La risposta è no, è impossibile. Allora ecco che anche questo può contribuire a far crescere la sensibilità anche della classe politica. Ricordatevi che in una bellissima scena del film Mani sulla città di Rosi, che mi è capitato di rivedere ultimamente, del 63, si parla dell'abusivismo di Lizio a Napoli. C'è una scena bellissima in cui la polizia sta sgomberando un quartiere popolare perché si deve realizzare una nuova urbanistica che specula ovviamente e vi sono dei muti di piazza, un membro del Consiglio Comunale napoletano di sinistra interviene e cerca di placare i manifestanti, uno dei quali gli si rivolge contro arrabbiato dicendo allora dovremmo votare per il tuo partito, per il partito comunista? La immagine è bellissima, la risposta è no. Votate per chi volete, ma votate per chi rispetta la legge. È una bella frase del 63, ma rimane ancora adesso.